La doppia semifinale di Champions League il 9 e il 17 maggio sarà tutta italiana. L'Inter di Simone Inzaghi raggiunge i cugini rossoneri del Milan e si preparano per un derby europeo di dimensioni enormi e affascinanti. Mercoledì a San Siro i Nerazzurri hanno pareggiato 3-3 contro un Benfica che solo nel finale si è risvegliato. Vantaggio dopo 14 minuti con Varella di sinistro dopo un ubriacante dribbling sugli avversari. La gioia dura poco poiché alla mezz'ora arriva il pareggio lusitano con Ossornes, ottimamente servito da Rappasilva. Nella ripresa è tutto show nerazzurro con le reti di Lautaro Martinez 2-1 e di Correa 3-1. Ma il Benfica nei minuti finali ottiene due reti con Antonio Silva e Musa per il 3-3. Se fosse rimasta la regola del gol in trasferta li avrebbe qualificati. Giovedì il turno per i quarti di ritorno di Europa e Conference League. Impegno di riscatto per la Roma contro il Feyenoord dopo il K.O. dell'andata per 1-0. La Juve vuole la vittoria sullo Sporting Lisbona dopo il vincente 2-0 dell'andata a Torino e in attesa della decisione sul processo Plus Valencia. La Fiorentina in Conference al Franchi riceve il Lecbosnan. Il 4-1 dell'andata li ha fatto conquistare mezza semiminale. Ora si aspetta il completamento del ritorno per accedervi.